Martedì 29 gennaio 2019, siete sul canale 17 di Fano TV e questa è la rassegna stampa del mattino. Ben ritrovati a tutti voi carissimi telespettatori di Fano TV. Allora cominciamo dal santo del giorno, vediamolo subito, poi andiamo a vedere le previsioni del tempo. Oggi è San Gelasio II Papa, il sole è sorto alle 7 e mezza e tramonterà le 17 e 15, 17 e 14. Allora il tempo dicevamo oggi sarà ancora nuvoloso con precipitazioni nella prima parte della giornata, rovesci sparsi in particolare lungo la fascia costiera. Avremo il limite delle nevicate attorno ai 500 metri, le temperature saranno in diminuzione soprattutto nei valori minimi. Per la giornata di domani avremo ancora dal tardo pomeriggio deboli piogge nelle zone interne, nevose sopra gli 800 metri. Ancora temperature minime in diminuzione mentre le massime saranno in leva aumento. Attenzione, durante la notte di domani al primo mattino gelate diffuse in particolare nei fondovalle e nelle zone pianeggianti. Non migliora per la giornata di giovedì, come vedete l'ultimo giorno del mese di gennaio si chiude con ancora pioggia, soprattutto al mattino. Deboli precipitazioni anche nevose attorno ai 500 metri, limitatamente però agli appennini. Ancora temperature in aumento nei valori minimi e stazionari invece nei valori massimi. Le condizioni saranno di variabilità anche nei prossimi giorni, quindi venerdì, sabato e domenica avremo carbino, quindi un vento caldo e deboli piogge per il transito di una nuova perturbazione atlantica. E adesso andiamo a vedere i titoli delle notizie più importanti del giorno, partendo dal piano sanitario regionale. La regione ha infilato all'ultimo secondo nel documento anche l'ospedale di Pergola che dunque avrà il pronto soccorso. Poi c'è la cronaca con un incidente per fortuna senza gravi conseguenze che ha visto coinvolta un'auto che si è schiantata contro un autobus sul quale c'erano degli studenti che rientravano a casa dopo una giornata passata appunto sui banchi. E poi altre notizie che vedremo man mano. Cominciamo allora dal Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro, con l'ospedale Marche Nord che ha avuto il via libera da parte della regione. È stato scelto il progetto dell'ATI, cioè dell'Associazione Temporale di Impresa, capeggiata dalla società Renco e poi c'è la norma che blinda il bando. Tutto questo è stato comunicato con uno scarno comunicato stampa appunto da parte della regione. Il progetto Renco per il nuovo ospedale è dunque fattibile, si tratta di un sostanziale via libera all'affidamento della progettazione, della costruzione, della gestione della nuova struttura che, lo ricordiamo, sorgerà a muraglia. Prossimo step appunto il bando di gara. Centropagine invece un'auto che senza controllo piomba sull'autobus, paura sulla Flaminia Carrara di Fano. studenti e autista illesi, il traffico paralizzato. Qui di spalla invece la notizia con la fotografia di Aerdorica, l'aeroporto delle Marche. Il rilancio di questo aeroporto arriva quasi un sì da parte dell'Unione Europea. Sono previsti anche nuovi voli per Bucarest e Parigi. La pagina interna, Ricci, e qui siamo su Pesaro, investe sulla Cicogna, un poker per la maternità, tasse comunali scontate per chi fa figli, contributi specifici e sconti per gli asili nido, per la mensa del tempo pieno. La giunta pesarese pronta a varare un pacchetto di misure a sostegno della natalità. Tutto questo sarà attivo a partire dal 2020. Mentre sulla questione dei vigili dell'Unione ci sono 137 mila euro per le assunzioni. Deve restare valida però la graduatoria. Gli organici sono infatti all'osso, i sindacati chiedono un incontro del comandante. Tant'è che, numero in la mano, va detto che ci sono attualmente 83 agenti in forza al comando di Pesaro, di cui 43 sono esterni, quindi in strada, a fare servizi anche di infortunistica, oltre che delle notifiche. E 40 agenti invece che sono negli uffici. Tre persone, tre giovani, l'altra sera, domenica sera, intorno alle 20, in Viale Gorizia, sempre a Pesaro, nella zona del mare, sono stati notati. Uno in particolare è stato notato mentre si appostava dietro ad un muretto avvolto coperto da un passamontagna. Qualcuno ha dato l'allarme, sono arrivati i poliziotti. Alla fine si è scoperto che questi tre giovani, poco più che ventenni, stavano giocando un po' a una sorta di guardia e ladri, però senza avere, o meglio, con delle pistole, dei Kalashnikov, giocattolo, ma senza il famoso tappo rosso, quello che ci deve essere sempre, proprio per certificare che quella è una pistola o un'arma comunque giocattolo. Si tratta, dicevamo, di tre persone, un 25enne insieme ai suoi amici, un 20enne e un 22enne. Ora, questi ragazzi sono stati fermati dalla polizia e sono stati denunciati. Questo invece è il racconto che riguarda un incidente, un incidente che è avvenuto a Vallefoglia, davanti poco prima della Fab, e che ha visto coinvolta un'auto, come vedete dalla fotografia, e un furgone. Ora, la particolarità di questo articolo è che ha ripreso il racconto dell'autista di quest'auto qui, di quest'auto, che su Facebook ha scritto un po' quello che gli è successo. Questo perché? Perché chiede poi, naturalmente, di sistemare un po' la faccenda, perché pare che questo incidente sia stato causato dal ghiaccio che si è formato da un canale di scolo. L'acqua è finita sulla strada, ha ghiacciato, la macchina ci è passata sopra, quindi naturalmente poi è finita per scontrarsi contro il furgone. Allora, lui dice così, procedevo a velocità normale, credo 70 km all'ora circa, ma come le gomme sono entrate in contatto con il ghiaccio, non c'è stato più modo di pensare a niente. Ho chiuso gli occhi e ho aspettato il botto, sperando di sopravvivere. Ringraziando il cielo, mi è andata bene, anzi ci è andata bene a tutti. E nel mirino, come dicevamo, è il vicino canale di scolo, scolo ricoperto dalla vegetazione ed è indicato come causa per la formazione del ghiaccio sulla strada. E poi, ovviamente, l'automobilista ha ringraziato tutti quanti. E adesso invece andiamo sulla pagina di Urbino per un altro episodio di cronaca. Aggredisce badante infermieri, in reparto arrivano i carabinieri, paura in chirurgia. L'episodio si è verificato domenica notte, 20 minuti dopo la mezzanotte, quando un settantenne di Pergola, in attesa di un'operazione programmata, è andato in escandescenza. È stato evitato il peggio, ma gli operatori di notte sono pochi. Il sindaco di Urbino Gambini chiama la direzione sanitaria. La pagina di Fano, come dicevamo, in apertura. Quest'auto che è finita contro un autobus, paura per studenti autisti. È successo sulla strada Flaminia-Carrara di Fano, ieri intorno alle 13.20. Un incidente da mettersi le mani nei capelli. Ferito il conducente della Chevrolet Stark, 32enne fanese nato in Germania. In lesi i passeggeri e l'autista del mezzo pubblico, un fanese di 41 anni. La vettura è distrutta, tutti i lesi, dicevamo, nel mezzo. Questa è la fotografia che il Corriere Adriatico pubblica ed è stata presa dal nostro gruppo reporter di strada. Sotto addio a Bonetti, saggista e pensatore libero. Aveva 80 anni e è morto a casa, diffuso cordoglio in città. Il sindaco Seri parla di personalità straordinaria. Carnevale, siamo ormai a ridosso di questa nuova edizione. Il carnevale è entrato nelle scuole tra laboratori e animazione. Presentata la collaborazione didattica dove hanno partecipato anche la maschera tipica del carnevale, il voulon e la banda storica, quella folcloristica, della musica arabita. Questo è uno scatto alla Montessori che si trova nel quartiere di San Lazzaro dove appunto ieri sono entrati il voulon e la musica arabita. I tecarristi insegneranno i bambini a realizzare maschere che poi sfileranno in Viale Gramsci. E poi si parla ancora di Lisippo. Questa mattina Lisippo che deve rientrare a Fano, Minardi e Rapa chiedono alla Regione un intervento e fondi per l'esposizione. Ruspe in azione. Il mulino al Bani ormai comincia a diventare soltanto un ricordo da vedere solo nella fotografia. E' addio, la soprintendenza non attiva la tutela, 15 giorni fa il sopralluogo, le parti più recenti dell'immobile e il degrado hanno sconsigliato un recupero. Si parla di archeologia industriale, l'architetto Bursi spiega che il Comune non l'ha mai prevista. Allo stadio Mancini di Fano invece alvia la posa dei piloni, fine dei lavori però ignota. il Comune garantisce la compatibilità delle gare del Fano con il cantiere ma con modalità che non sono state precisate. Ancora la tribuna così come la vedete in questa fotografia allo stadio Mancini è senza copertura però insomma i lavori procedono e vanno avanti. Per quanto riguarda la pagina della Valle del Metauro, a Fossombrone per un attimo qualcuno ha sperato che il sindaco Bonci avesse davvero mantenuto la promessa di aprire il centro storico di notte per parcheggiare le auto in corso Garibaldi. Hanno riaperto il corso di notte, per un po' si è scritto nei social. Venerdì sera infatti qualcuno probabilmente si è dimenticato di alzare le sbarre che impediscono appunto l'accesso alle auto lungo il corso ma erano tutte auto abusive. L'illusione di un provvedimento del sindaco per l'impropria apertura selale della barriera. La situazione è registrata venerdì ma il giorno dopo è stata ripristinata l'isola pedonale. Valle del Cesano, Pergola avrà il pronto soccorso. Federico Talè mantiene l'impegno preso, riconosciuta l'area disagiata senza ridimensionare chirurgia. Questa possibilità resta in subordine. Il consigliere regionale dice abbiamo garantito il diritto alla salute nella media e alta valle del Cesano. Il retroscena blitz per modificare in extremis la bozza. La garanzia che Pergola sarà dotata di pronto soccorso una volta approvato il piano socio-sanitario avrà valore di legge. Questo è stato possibile grazie al blitz di ieri di Talè. È corretto il passaggio della bozza in cui la previsione era espressa in termini generali per le aree particolarmente disagiate e quindi con chirurgia dalle funzioni ridotte. Così quindi non sarà perché adesso è stato scritto nero su bianco e quindi diventerà poi legge. Degrado a Mondolfo in un'area privata vicino al parco pubblico hanno forzato la catena che serrava l'ingresso i locali chiusi o in vendita. Stiamo parlando della situazione di degrado vicino al parco pubblico di via Aldo Moro. E adesso andiamo a vedere il resto del Carlino. La notizia, la fotonotizia è per il giocatore, il fantasista della Vispesoro che ha visitato la redazione del giornale. e con questo progetto si va lontano, dice Flavio Lazzari che gioca a Subutio nella redazione del giornale. Poi mi soffermerei un attimo su questa fotografia, guardatela bene, anche in particolare l'orecchino, questo anello al naso, insomma, se vogliamo. Per questa ragazza di 16 anni che è scomparsa, una ragazza di Pesaro, si chiama Marta Fico, è sparita da casa ieri mattina dopo aver salutato i genitori per andare a scuola. Invece a scuola non c'è mai arrivata. Le amiche a cui ha detto di voler stare un po' in giro si sono cominciate a preoccupare nel tardo pomeriggio quando non l'hanno vista e non sono riuscita ad avere con lei un contatto telefonico. A quel punto i genitori sono poi andati immediatamente in questura a denunciare la scomparsa e di lei, ripeto, non si sa più nulla. Negli ultimi tempi stava frequentando un giovane egiziano già noto alla giustizia. Le ricerche si sono dunque concentrate sulle stazioni, del treno, su quelle dei taxi, degli autobus, sul casello autostradale, ma fino a tardasera di Marta non c'erano ancora tracce o segnali. Poi per quanto riguarda la lanterna azzurra, invece per i tecnici c'era l'ok, in commissione passò anche lo scivolo della morte. Andiamo nelle pagine interne. Questa è quella di Fano. La notizia è la storia che arriva dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Fano, dove due giovani, maggiorenni, hanno detto di aver fatto sesso nel reparto di psichiatria. I genitori però della ragazza hanno denunciato tutto ai carabinieri. I due erano ricoverati a Fano, nessuno si è accorto del fatto. Lei è una ragazza di 20 anni, lui poco più di 30, ora sono stati dimessi. I genitori però non ci stanno, anche se erano maggiorenni, anche se erano consenzienti. I genitori avrebbero voluto che ci fosse stato maggiore controllo da questo punto di vista e quindi adesso sono passati per le vie legali. Anche qui la notizia dell'incidente. Auto perde il controllo e si schianta contro un autobus. Poi Fano che piange Paolo Bonetti, ricordo di sé, intellettuale libero e fuori dagli schemi. E' morto anche a 95 anni il deportato Dario Martini. Si è spento ieri Dario Martini, presidente della sezione di Fratterosa dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Il suo funerale si terrà mercoledì alle ore 15 nella chiesa parrocchiale dedicata a San Giorgio. Ancora dal resto del Carlino, a lezione con il Vulone e la Musica Arabita, la manifestazione entra nelle scuole di Fano, coinvolti circa mille bambini. E poi sotto l'area eventi crea preoccupazioni. I commercianti si sentono penalizzati per la scelta di escludere la piazza dagli eventi. Però giustamente la presidente dell'ente carnevalesca ha detto che quest'anno ci sarà un biglietto e quindi è giusto che gli eventi si facciano all'interno del circuito, dove per entrare si pagherà un biglietto. Mentre la candidata del centrodestra di Fano, Tarsi, sui lavori al Pincio, dice che la sfilata perde di valore. Ancora sull'ospedale unico, Renco incassa il primo sì, Marche Nord delibera dalla Regione ok alla fattibilità per Muraglia, disco verde del Dipartimento per la programmazione economica di Palazzo Chigi e anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti attraverso il Dipartimento ha dato l'ok per la realizzazione del nuovo ospedale unico a Muraglia. Si parla di un project financing, cioè di un mix pubblico e privato, da 212 milioni di euro. L'opera, lo ricordiamo, questo nuovo ospedale prevede la realizzazione di 612 posti letto per una estensione totale di 102 mila metri quadrati spalmati su 7 ettari e mezzo di terreno. Ci saranno 28 sale operatorie, di cui 13 ordinarie, 4 dedicate alla natalità, 11 di day surgery ambulatori chirurgici, poi 40 postazioni di terapia intensiva, 90 ambulatori. Insomma, 4.500 metri quadrati di pronto soccorso. Pare essere davvero un mega ospedale. Poi Clinica Privata Fano, un business che attrae anche imprenditori locali che appunto sono in corsa. Altri sono disponibili. Tra gli imprenditori locali c'è anche l'attuale presidente di Confindustria, Mauro Papalini. Ma c'è anche, si fanno i nomi, di Massimo Berloni, ex Don Dapp, così come Franco Stocchi. Un impero, il suo, nei jeans a Urbani, ma anche presidente della Mittel Spa, che è una società quotata in borsa. Insomma, tutto questo, tutte queste persone, tutti questi imprenditori locali che si vanno ad unire a Ettore San Savini, che è titolare di 23 ospedali in Italia, che ha anche ramificazioni in Francia, Polonia, Albania. Ed è soprattutto, forse conosciamo tutti, Cotignola, nel Ravennate, per San Savini, è titolare di questa clinica, dove tra l'altro opera anche Raul Zini, che i fanesi conoscono bene. L'altra pagina della sanità sul resto del Carlino, ok al piano sanitario. E all'ultimo momento c'è il blitz per Pergola, la struttura inserita nel documento, ma è scontro. Scivolo della morte, qui siamo alla tragedia di Corinaldo. Secondo i tecnici era ok, così la commissione di vigilanza promosse il locale. C'è anche la relazione, il documento che pubblica il giornale. Ricordiamo sei le vittime nella notte tra il 7 e l'8 dicembre. Tutti i ragazzi, tranne una mamma di 39 anni. Non furono individuati problemi particolari quella volta, l'autorizzazione risale al 2017. L'altra pagina invece del resto del Carlino, sempre sulla tragedia di Corinaldo, è per un esame che farà il RIS sulla bomboletta spray, sulle scarpe e gli indumenti delle vittime. L'appuntamento è per giovedì a Roma, nella sede dei carabinieri del RIS, dove verranno esaminati, una volta per tutte, infatti sarà un atto tecnico irripetibile, verranno esaminati alcuni dei 110 campioni trovati e prelevati all'interno e all'esterno della lanterna azzurra di Corinaldo dopo la strage dell'8 dicembre scorso. Sono analisi importanti anche per la posizione del 17enne, quel ragazzetto che è finito nei guai. Anche per lui, insomma, saranno giorni importanti perché se i vestiti saranno immuni dagli elementi chimici, quindi non ci saranno tracce di questi elementi chimici, allora significherà che il sospettato numero uno non c'entra davvero nulla con questa tragedia, oppure al contrario ne è davvero il responsabile. Sulla pagina di Pesaro, sempre del resto del Carlino, la notizia della morte di Eugenio Vagnini, pioniere dell'Aido a Pesaro, oggi alle 15.30 i funerali a Cristo Re. L'ultima pagina invece da Urbino, addio al cartoonist Giancarlo Carloni, da Urbino a Milano ha segnato la storia di Carosello e del cinema d'animazione. Questa era l'ultima pagina della nostra segna stampa, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il Telegiornale. Arrivederci.